ahahah corre corre si guarda come corre bene poi tra l'altro la setterina comunque sta prendendo fiducia si meno cane ma è carino Pippo Dov'è? Dov'è? è un pazzo guarda che si fa prendere i bracci guarda che si 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 chi 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 Adesso devi accarezzarlo un pochino. Pippo, gli fa pipì? Ecco, basta, farezzalo un pochettino questo bambolotto, il suo piccolo lordo. Ma lui si snobba, lui è inglese, in realtà è italiano, volpino italiano, non siamo alla sua altezza, comunque lui è di sangue blu, tu sei di sangue blu, come il fiocco, tutto torna, bloccalo, un video di 20 minuti, ma puoi mettere pausa per rimettere reti, no qua corsino, però è bello lui che corre. Ma lei mi ha attratto proprio dalla matriatura, si, è un divo, sei un divo tu. Tu hai bisogno di una spazzolatina, è vero, sai come diventi bello senza tutto questo pelo, guarda, guarda, guarda questo pelo, guarda, guarda quella cola che cos'è. Dove stanno? Dove stanno? Dov'è? Ecco lì. Amorino. Ciao amore. Ciao. Ma tu sei giovane, guarda che bello. Ciao. Ma guarda come cammina. Bella. Stai bevendo? Mh. Ma è carino. Mi hai spezzolato. Guarda il video. Eccolo. 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 k